Un cordiale saluto a tutti, sono molto lieto di aprire i lavori dell'Internet Governance Forum 2012, organizzato dalle Nazioni Unite, dal Politecnico di Torino e dagli altri autorevoli enti che hanno assicurato la loro partecipazione. Le tematiche che affronterete durante i vostri lavori sono di un'attualità veramente straordinaria. Vanno dal digital divide, all'agenda digitale, all'e-government, allo sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile grazie all'uso razionale delle nuove tecnologie. Tutti temi che sono ben presenti anche al governo italiano. Immagino che tutti voi conosciate già i dettagli del recente secondo decreto crescita deliberato proprio due settimane fa dal Consiglio dei Ministri e che darà un grande impulso, auspichiamo tutti, all'agenda digitale in Italia, allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e alla nascita di start-up in questo settore. Ma in particolare il Ministero degli Esteri ha intrapreso un importante e impegnativo percorso proprio in relazione al mondo di Internet e alla sua governance. E a questo proposito vorrei ricordare la cabina di regia per la crescita e lo sviluppo economico che presiedo insieme al Ministro Passera, una cabina di regia che sostiene le imprese italiane operanti all'estero perché lo sviluppo e la crescita non possono certo prescindere da una qualità e un'intensità nella circolazione di servizi e di idee tramite l'utilizzo e l'accesso alla rete. Il lavoro svolto dalla nostra rappresentanza a Ginevra per consentire l'approvazione della prima risoluzione delle Nazioni Unite sulla protezione della libertà di espressione sul web è un altro aspetto che vorrei segnalarvi, così come il lancio della piattaforma digitale innovaitalia.net dove ricercatori e scienziati italiani che operano presso aziende e istituti all'estero possono e stanno già dialogando intensamente tra loro e si scambiano buone prassi e informazioni. Così da ripristinare e consolidare quel legame con l'Italia e i grandi personaggi della ricerca, della cultura, dell'insegnamento che operano all'estero e quindi con questo legame favorire anche una concreta, intensa circolazione del sapere. Ma vorrei anche approfittare di questa platea così qualificata per condividere con tutti voi oggi alcune anticipazioni su MyCom, cioè su un documento programmatico per la comunicazione del Ministero degli Esteri nel 2013 che stiamo terminando di redigere. L'obiettivo centrale di questo documento, del nuovo MyCom, è quello di dare un forte impulso alla politica di engagement, di coinvolgimento sul web 2.0 a tutti i livelli nei quali l'amministrazione degli affari esteri è coinvolta. Così da stimolare una policy di riferimento all'altezza dei tempi, all'altezza della nostra attualità e delle esigenze della moderna comunicazione. Per questo nel nuovo documento MyCom vengono valorizzate le potenzialità, tutte le potenzialità dei nuovi media e in particolare uno si enfatizza la possibilità di comunicare in modo non convenzionale, personalizzato, diretto e inclusivo. In secondo luogo si pongono le basi per adeguarsi alla caratteristica propria del dialogo in rete, ovvero all'utilizzo di uno stile più informale e con lo snellimento di processi che portino da una decisione la sua comunicazione verso l'esterno, privilegiando quindi la velocità dell'interazione. Pur rimanendo fedeli a quello che è il ruolo istituzionale di primo piano del Ministero degli Esteri, della Farnesina, ciò sta significando per noi mettere in discussione anche prassi consolidate, per entrare più in sintonia con quelle regole di ingaggio che sono tipiche dei nuovi digital media. Tutto questo include una totale trasparenza e con questa ci si deve rendere misurabili ogni giorno e con ogni singolo cittadino. A ciò intendo aggiungere una keyword importante, quella dell'autenticità. Nell'esatto momento in cui un Ministero importante come quello degli Esteri accetta la sfida dell'interazione e della trasparenza, io credo che si debba veramente entrare in un'ottica di idee aperte al confronto e alla critica e che quindi non ci si possa più prendere il lusso di una scarsa trasparenza, di scarsa autenticità. Se vi è distonia tra ciò che siamo e il modo in cui ci presentiamo al pubblico, apriamo un fronte potenziale anche di crisi reputazionali e mettiamo a rischio il nostro capitale di credibilità, che è un vero importante valore immateriale del web. E questo avviene proprio perché il web è globale, a livello nazionale e a livello internazionale. Vorrei ricordare la battuta dell'imprenditore americano Warren Buffett che ha ben riassunto questo rischio quando ha detto ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione, bastano 5 minuti per rovinarla. E questo è un punto di attenzione prioritaria che tutti gli operatori che fanno politica estera, in particolare tutto il personale, gli uomini e le donne che dipendono dal Ministero degli Esteri, hanno ben presente in questa nuova realtà globale di Internet, dove in pochi minuti un giudizio negativo può condizionare intere masse. Questa situazione fa fare alla pubblica amministrazione un salto di qualità dal punto di vista dell'engagement, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Ho voluto anticipare in sintesi alcune delle linee guida di questo approccio di fondo, approccio 2.0 al mio mandato, che è riassumibile per quanto riguarda il Ministero degli Esteri nella parola i diplomacy. Siamo pronti ad adeguare il nostro operato alle necessità e richieste di un mondo che si fa sempre più piccolo, sempre più rapidamente interconnesso e nel quale le persone cessano di essere utenti finali di un messaggio in qualche modo preconfezionato e divengono invece in realtà sempre più individui assolutamente centrali al messaggio, cittadini che quel messaggio contribuiscono davvero a costruirlo. Penso ad esempio all'utilizzo sempre più diffuso dei social media da parte della nostra rete diplomatica e consolare, nel gestire rapporti con i residenti all'estero, questo sta già avvenendo ma attraverso l'utilizzo dei social media da diversi mesi a questa parte c'è stato un ulteriore salto qualitativo e penso anche a sostegno che le aziende e gli imprenditori italiani che vogliono operare all'estero possono ricevere in modo più diretto ed efficace. Penso infine a un modo più capillare e è il caso veramente di dirlo virale per far conoscere i valori tipici del made in Italy e dello straordinario brand Italia. Non possiamo sottovalutare in questa realtà l'importanza cruciale della comunicazione online anche negli scenari più caldi e è molto sintomatica l'esperienza delle primavere arabe e la rapporto insostituibile che i social media hanno fornito alla richiesta, al desiderio di maggior democrazia da parte di milioni di giovani nel Maghreb ed in altre zone del mondo arabo, alla loro lotta per democratizzare intere aree del nostro mondo, ma anche come è stato discusso a recente Social Media Week di Torino, la possibilità di evidenziare un pubblico ampissimo a vicende, personaggi e testimonianze da scenari di guerra che forse nessun media convenzionale potrebbe aver coperto e documentato, ma tutto ciò non può ovviamente prescindere da un dibattito onesto, concreto, costante sulla difesa di alcuni principi fondamentali che iniziative come la vostra contribuiscono a stimolare, primo tra tutti il diritto di accesso alla rete, ma anche e soprattutto il diritto alla libertà di espressione tramite internet. A questo proposito mi sembra utile ricordare il lavoro importante svolto dal professor Stefano Rodotà con la proposta che ha avanzato insieme ad altri autorevoli esperti di lanciare un internet bill of rights, cioè la carta dei diritti dell'internet che fin dal 2006 poneva al centro il tema dell'autonomia e neutralità della rete. Internet è certamente il più grande spazio pubblico mai creato dall'uomo ed offre l'opportunità di acquisire conoscenza, creare e condividere idee, partecipare attivamente alla vita della società, cioè si tratta di un bene comune che va salvaguardato con ogni mezzo. Per queste ragioni vedo con grande interesse quanto state facendo e quanto farete in questo forum al quale vorrei garantire sin da ora il più pieno e concreto sostegno istituzionale affinché le linee di indirizzo che elaborerete in questi giorni possano essere concretamente recepite e implementate a livello globale. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie a tutti.